Vi voglio confidare un segreto, rimanga naturalmente tra noi, io sono il direttore scientifico di questa scuola, sì perché Scuola Tessieri è un'accademia di cucina e dico accademia perché qui non si impara solo a cucinare ma si impara a essere donne e uomini di cucina, perché donne e uomini di cucina vuol dire sapersi rapportare con gli altri, avere rispetto degli altri e soprattutto capire il perché si fanno le cose, perché in cucina questo è fondamentale. Vediamo un po', io sento una voce che conosco piuttosto bene, mi sembra lo chef Stefano Cipollini.